Gentili telespettatori, buona giornata. Alla domanda fatta a Barbara Alberti che ne pensa di Eli Schlein, si alza e se ne va dicendo no 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 no. Allora, intanto Barbara Alberti, credo che la conosciate tutti almeno così visivamente, Sicuramente è stata iscritta al partito radicale e nel 1992 si è candidata alla Camera dei Diputati con la lista di Marco Pannella, nella circoscrizione Roma-Veeterbo-Latino-Frosignone ottenendo 299 preferenze. Quindi possiamo annoverarla tra le donne di sinistra. Ora, ecco, viene intervistata da Peter Gomez su Rai3. Quindi Peter Gomez, se non sbaglio, è uno dei fondatori, se non il fondatore del fatto quotidiano, è diverso da Travaglio. Peter Gomez però è più politicamente, non dico neutrale, ma perlomeno cerca di ragionare, di non fare il tifoso. Ecco, per questo che il governo ha dato a questo Peter Gomez questo programma, perché la Rai è sotto il controllo del decisore politico, del governo, dell'esecutivo. Bene, quindi Peter Gomez ha questa trasmissione su Rai3. La confessione. Lei, scrittrice, sceneggiatrice, femminista, sempre molto acuta, intelligente, critica, anche autoironica. Alla fine dell'intervista, dedicata al politicamente corretto, terribile politicamente corretto, che peggiorerà. Vedrete che in arrivo dagli Stati Uniti abbiamo anche il Wok, che è molto peggio del politicamente corretto. Lì si parla proprio della dittatura di un pensiero che discrimina, al contrario. Vabbè, quello è una cosa terribile. Ho letto un articolo sul Corriere della Sera che è da far venire i brividi. Da far venire i brividi, no? Il Wok, simpatico come nome, Wok, tipo l'uovo alla cocca. No, Wok, ma è una cosa terribile, terribile. Un giorno ne parleremo, chissà se ne potrò parlare, perché voi sapete che come tutte le dittature non se ne può parlare. Vedremo se avrò la possibilità di raccontarvi questa cosa terribile che sta per arrivare anche da noi. Al termine dell'intervista dell'Alberti, dedicata al politicamente corretto delle nuove femministe, va in scena una cosa. Come sempre accade, l'intervistatore Peter Gomez concede un minuto in solitaria all'intervistata per parlare a ruota libera, come se fosse in una confessione, per dire veramente ciò che pensa ad un personaggio, ogni volta diverso. In questo caso Gomez chiede all'Alberti, bene, lei ha un minuto per dire tutto quello che vuole, tutto quello che pensa su Ellie Schlein, ovvero Ellie non esiste, è un nome inventato, lei si chiama Elena Edel, detta Schlein. Sapete che a sinistra si fanno chiamare con i nomignoli, no? Come Rosaria detta Rosi Bindi, eccetera, eccetera. Giuseppe detto Beppe, vabbè. Quindi chiede che cosa ne pensa di Ellie Schlein, segretaria del Partito Democratico. Non l'avesse mai fatto, Barbara Alberti, vistasi spiazzata, dice mo' che dico? Ecco, è andata nel panico, è apparsa molto contrariata, come dire, che fai? Mi chiedi un'opinione spassionata su Elena? A quel punto si alza e se ne va dicendo no, 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 sei volte no, 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 no. E Ellie Schlein non dico, non dico niente. Ma che le devo dire, dice, l'ho vista una volta, mi è simpatica come bambina, ma non ho nulla da dire, nulla. Non mi può fare questo, basta, me ne vado. Beh, capite che l'ha chiamata praticamente una bambina, bambina e già lì ha detto tutto quello che avrebbe voluto dire ma che non ha fatto evidentemente per non dare un colpo decisivo a questa sinistra che sbanda con questi capi politici un po' alla matriciana. Ecco, quindi già dicendo la parola simpatica come bambina, come dire, può essere simpatica quando si mette quel sorriso stampato ogni volta che la inquadrano, può essere simpatica come bambina ma per il resto non è un politico in nessun senso. Ecco, questa è la mia traduzione, ma dopo alcuni attimi di silenzio davvero l'Alberti si alza e se ne va, davvero, con la sigla finale del programma in sottofondo. Un momento, un magic moment davvero grottesco che ha fatto sorridere in quel momento chi stava guardando il programma. Ecco, poi prima aveva parlato di maternità surrogata, un contrasto poi con Michela Murgia, recentemente scomparsa, e poi il tema nessuna donna vuole dar via il suo bambino per soldi. Lei diceva che un fenomeno così diffuso non si poteva fare altro che regolamentarlo perché il divieto non sarebbe bastato. Alberti diceva che è diffuso tra i ricchi che pagano i poveri, allora stabiliamo una cosa, che contano solo i soldi, ma per favore non ammantiamo queste cose o non un'umanità che non c'è. Beh, insomma, cosa vi devo dire? Credo che quello che vi ho sempre raccontato, la mia opinione su Elena detta Ellie, l'Elli che Ellie, non so esattamente come chiamarla, è incredibile. Io in tanti anni che seguo la politica non ho mai visto, mai, mai, mai visto un capo politico di questo tipo. Ecco, parliamo sempre politicamente, non come persona. Noi parliamo, le mie critiche sono esclusivamente ad Ellie Sline come politico, quello che fa come politico, mai e poi mai come persona. Quindi la critica è al politico e non alla persona, questo è importante, lo dico anche a tutti voi, non si criticano mai le persone in quanto persone, ma in quanto politiche, il lavoro che fanno, come... Ecco, questo è importante per non cadere in diffamazione, calunnia e altre cose che eludono dalla critica politica o critica in generale. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.